La storia che ti sto per raccontare è quella di un imprenditore che stava rischiando di perdere tutto per colpa dei consigli sbagliati di un professionista superficiale. Rino era un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, con un'azienda che per decenni aveva mantenuto il suo fatturato a livelli più che dignitosi per la sua azienda. Fatturava, guadagnava e le cose andavano bene, fino a quando tutto ha iniziato ad andare a store. L'azienda era impegnata, come ti dicevo, nel settore delle telecomunicazioni. In pratica comprava, installava e gestiva degli impianti di telecomunicazioni complessi. I suoi clienti erano le aziende e i piccoli comuni, quindi clienti solvibili e pronti a fare degli investimenti. C'erano quattro soci, più uno staff più o meno numeroso di artigiani e specialisti. Il fatturato era consolidato e la base della clientela era molto valida. Di fatto, oltre all'impianto e all'installazione, fornivano servizi continuativi che gli garantivano una buona base di fatturato anno dopo anno. Le medie aziende e le piccole amministrazioni a cui si rivolgevano erano in grado di pagare le fiche periodiche, senza grossi problemi di budget. Rino e i suoi soci erano dei validi imprenditori e negli anni avevano instaurato delle relazioni commerciali consolidate che gli avevano permesso di mantenere il fatturato sempre in linea con le aspettative. Lavoravano con solo due istituti di credito e quando li abbiamo conosciuti era da anni che lavoravano con i fidi a tappo. Come ti dicevo, fatturavano all'incirca un milione di euro l'anno, un fatturato che oscillava di 100.000 euro in più o 100.000 euro in meno a seconda delle annate più o meno buone. L'indebitamento era proporzionale alle esigenze delle aziende, anche se nel tempo le banche avevano iniziato a ridurre le proprie esposizioni. Di fatto, quando ci siamo conosciuti, le banche avevano già avviato le procedure di pre-revoca degli affidamenti e Rino stava iniziando a sentire la pressione delle richieste dei direttori di banca. D'altronde era stato lui che nel tempo aveva convinto i soci a firmare le fideiussioni ed era lui che sentiva la responsabilità del debito da pagare. Con i fornitori per anni erano stati regolari, ma poi nel tempo avevano accumulato, soprattutto con i grandi player delle telecomunicazioni, dei debiti sempre più rilevanti. Ma la vera spada di Damocle dell'azienda di Rino era il fisco. Negli anni avevano accumulato cartelle esattoriali su cartelle esattoriali, sempre puntualmente rateizzate, ma senza fare bene i conti. Di fatto, erano arrivati ad un punto in cui non riuscivano più a sostenere i piani di rateazione. C'erano due rischi quando li abbiamo conosciuti. Il primo era il rischio di un pignoramento presso terzi, qualora avessero smesso di pagare le rateazioni. Di fatto Equitalia avrebbe potuto bloccare immediatamente i pagamenti da parte dei comuni, ma avrebbe potuto rintracciare facilmente anche i clienti storici dell'azienda. Dall'altra parte c'era il rischio che le banche revocassero immediatamente le linee di credito, rivalendosi sul patrimonio personale dei soci. Quando sono venuti da me erano convinti di voler intestare l'azienda ad un prestanome e di trasferire la sede legale in una provincia del sud Italia. Questa strategia di gestione non era nata dal nulla, era venuta dal commercialista di fiducia che li aveva praticamente invogliati a trasferire le quote sociali. L'azienda non aveva più le risorse finanziarie per pagare l'indebitamento accumulato e facendo una rapida analisi della situazione questo era ben chiaro. Andando avanti così in poco tempo i conti sarebbero stati pignorati e dato l'importo medio della fattura il danno sarebbe stato senza rimedio. C'erano due fattori di rischio importanti. Il primo, come ti accennavo prima, era la patrimonializzazione dei soci che di fatto impediva di raggiungere grossi stralci nelle trattative. Dall'altro c'era il fatto che i fornitori potevano bloccare le forniture di base e quindi di conseguenza i servizi per i clienti dell'azienda di Rino. In un attimo a cascata Rino rischiava di perdere tutti i flussi di cassa. La banca avrebbe bloccato i pochi incassi per coprire il suo debito e con l'arrivo di un pignoramento presso terzi ci sarebbe stata sicuramente la revoca dei fili. In seguito, anche se non ci fossero stati sul conto, questo pignoramento avrebbe provocato le azioni esecutive sui beni dei soci. E Rino non poteva e non voleva rischiare che i suoi figli e quelli dei suoi soci dovessero pagare le loro colpe. Il professionista che li seguiva da anni gli aveva suggerito di spostare la sede legale dopo aver intestato l'azienda ad una persona sconosciuta. L'intestazione fittizia, oltre a non risolvere questo problema, avrebbe provocato molta più difficoltà nella gestione della situazione che invece si poteva portare avanti in altro modo. Tra l'altro avevano già costituito una nuova società e c'era stato un trasferimento di beni senza pagamento dell'affitto d'azienda. Di fatto una situazione che in poco tempo li avrebbe portati al collasso. In una condizione del genere, Rino e i suoi soci rischiavano sia dal punto di vista patrimoniale che dal punto di vista penale, per aver commesso delle azioni in frode. Bisognava fare qualcosa di diverso. Dato lo stato in cui si è presentato, era chiaro che l'azienda non poteva continuare in quello stato e doveva essere posta in liquidazione, ma doveva essere posta in liquidazione nella maniera corretta, rispettando le leggi vigenti. Bisognava liquidare il patrimonio aziendale valorizzandolo a prezzi di mercato, in modo da non subire il rischio di revocatoria o, ancora più grave, il rischio di azioni penali per aver sottratto dei beni all'azienda. Con le banche le transazioni erano possibili ed era possibile fare transazioni a stralcio anche con i fornitori. Era lì che bisognava arrivare. La sequenza dei nostri interventi è stata chiara fin da subito. Dovevamo prendere quello che era stato già fatto, sistemare la situazione e partire per mettere liquidazione la società nella maniera corretta. Abbiamo quindi fornito l'assistenza, le informazioni e la consulenza necessaria per liquidare il patrimonio aziendale. E negoziato nel frattempo gli accordi con i fornitori, ottenendo dei grossi vantaggi. Le trattative con le banche sono durate più tempo. Siamo arrivati a chiudere l'ultima banca a 23 mesi dall'inizio delle trattative, ma abbiamo portato a casa il risultato. Nel frattempo l'imprenditore ha continuato a pagare il suo debito fiscale, utilizzando il patrimonio liquidato per saldare il suo debito col fisco. Alla fine, quando ci siamo salutati, l'imprenditore aveva in piedi un piano di rientro sul debito fiscale che era sostenibile sulla base dei flussi di cassa che l'azienda doveva ancora incassare. Il debito erariale poteva essere saldato, l'azienda aveva anche potuto approfittare dello sconto offerto dalla legge sulla rottamazione e la liquidazione in bonus della società era stata avviata. La chiusura a stralcio delle esposizioni ha permesso a Rino di risparmiare molti soldi e di utilizzare i soldi incassati con il patrimonio liquidato per saldare il suo debito collerario. Alla fine delle nostre operazioni Rino ha rilasciato la testimonianza, che è quella che ti riporto in questa slide. Queste sono alcune delle transazioni riconcluse per conto della sua azienda. Spero che questa storia ti sia piaciuta e ti lascio alla prossima storia della videoserie. Ciao!